Ne avevamo anticipato la chiusura sulle pagine di Facebook mercoledì mattina alle ore 7 che la struttura comunale del cimitero, in seguito alle forte precipitazioni e raffiche di vento, era divenuta pericolosa. Il sindaco di Angri, Pasquale Mauri, con apposita ordinanza numero 30 del 6-3-2013, ne aveva immediatamente disposto la chiusura. Abbiamo dovuto disporre la chiusura del cimitero per salvaguardare l'incolumità dei cittadini che quotidianamente si recano in loco, ha dichiarato il sindaco di Angri, Pasquale Mauri. Purtroppo i danni sono stati molteplici e le condizioni di sicurezza della struttura sono state altamente danneggiate. Tuttavia stiamo lavorando senza sosta per ripristinare lo stato dei luoghi, liberando i viali dagli alberi caduti e predisponendo la riparazione delle tombe danneggiate. Voglio rassicurare i miei concittadini che stiamo facendo l'impossibile per consentire la riapertura del cimitero per il fine settimana e consentire a tutti di poter far visita ai propri cari. I danni incenti alle strutture e su pellettili cimiteriali e lo schianto al suolo degli alberi hanno reso impraticabile e rischiosa la percorrenza dei viali. Ora si sta lavorando con rapidità all'interno dello stesso per ripristinare il luogo di culto e per consentire l'apertura della struttura nei giorni di sabato e domenica, salvo condizioni meteorologiche avverse. Si tratterà tuttavia di un accesso limitato solo alle zone fruibili e disciplinato dagli agenti della protezione civile.